Grazie Presidente, mi preme solamente sottolineare un elemento importante che poi anche dagli interventi dei consiglieri evidentemente non presenti alla Commissione perché non componenti o perché non si sono confrontati poi con i loro membri di gruppo che fanno parte della Commissione. Quando abbiamo approvato e dato parere all'osservatorio in Commissione abbiamo dato parere sulla delibera iniziale ma abbiamo detto ed era presente il Direttore Ciminelli che con un emendamento già presentato, che è l'emendamento numero uno, avevamo superato questo parere negativo e aveva confermato lo stesso Direttore Ciminelli. Quindi tutto questo castello di carte viene a cadere di fronte a questo fatto. Dopodiché gli emendamenti successivi sono frutto di un confronto con il Segretariato che si è ritenuto utile per alcune migliorie e correzioni che potete vedere nel subemendamento, l'emendamento numero uno e l'emendamento numero due. Non sono sostanziali, si va a migliorare l'apparato dell'osservatorio, sempre come dicevamo prima nell'intendimento di voler trovare un punto di partecipazione dove tutti i portatori di interesse, associazioni di categoria, associazioni di cittadini, comitati di quartiere e i membri uditori istituzionali possono trovarsi per sviluppare temi importanti. Quei temi che oggi purtroppo non si riesce spesso a dipanare a nessun livello istituzionale. La città di Roma nel commercio purtroppo è trattata a volte dai politici, a volte anche dalle persone in maniera troppo superficiale. Bisogna abbandonare i muri contrapposti tra cittadini e operatori, bisogna trovare il bene comune, bisogna andare alla direzione di trovare il giusto equilibrio tra libertà di impresa e salute dei cittadini. Questo è un arduo compito e noi vorremmo farlo come previsto dalle nostre linee programmatiche in modo partecipato e serio con un organo che possa tramite anche competenze tecniche o tramite idee appunto della cittadinanza sviluppare queste tematiche anche al di là di quello che le istituzioni possono fare autonomamente. Riteniamo che sia un buono strumento a cui dare attuazione prima possibile per provvedere poi al riordino del commercio o al piano regolatore del commercio come già richiamato in alcune commissioni capitoline commercio. Grazie.